La Piazza La Piazza E' stata ragazza tutti i quali perché l'altro sapete se non puoi rispettere e certo giurare non puoi conversare ma se non eri orderemente questa tazza ne avresti mai visto tante ne avresti mai visto tante ma stanno stati io ricordo una maniera quando si pensa mi sento malato si pareva una sciume di pezzo di argento ma è raro pure soldi scartolati la setta la bottiglia di vento io vicino quando sono tornato la setta senza capizia mi scrivono ma l'anno ma loro stanno a coppia ma sta bene ma arriviamo a mangiare così al palazzo reale il cascetino ci hanno spruppato ma già stasì non va bene e mi senti parlare va fuori riva la si avrebbero riusciti a fare e spara pure santa tesora di San Gennaro bravo grazie come solito lui trova sempre questi momenti politici per ricordarci il nostro passato e appose il nostro passato in effetti qua c'è stato recidio quindi c'è stata la violenza cruda che hanno mostrato i riemontesi nei confronti delle nostre terre ma questa violenza non si è fermata là ma non è finita anzi è andata avanti perché poi nel corso degli anni siamo stati costretti ad emigrare quindi da che eravamo una nazione un popolo che poteva aveva la sua economia alla fine ci hanno depredato e ci hanno costruito a emigrare e purtroppo tra di noi qua abbiamo tanti esponenti che vivono lontano da casa e uno di questi che vorrei invitare Vincenzo Tortorella che non vedo adesso Vincenzo? ecco qua e lui è un altro figlio della nostra diaspora perché attualmente vive in Venega e volevo invitare a dirci le parole su questa perioda che si mette invenenza all'interno di questo modo io volevo accendere una cosa Elmino ha parlato poco prima della Fulminante la Fulminante era una motonave una pilofregata cioè una nave composta da alberatura a vela e motori a carbone si a carbone era parte di una delle più potenti flotte del Mediterraneo la stessa flotta però che pochi anni dopo nel 66 a comando dell'ammiraglio Pezzano ha preso una patosta da 4 carrette austriache a legnano a legnano lista a quattro quindi in pochi anni la potenza navale del Regno del 2 Sicilie si è ridotta completamente a zero per colpa di pochi ufficiali inetti di che anno? 66 terza guardia di vista lista battaglia di lista questo per dare un esempio di come i piemontesi hanno declassato tutte le nostre strutture chi conosce Salerno sa che nella parte del mercato San Severino c'era un forte compresso industriale cotoniere filante lavieren erano imprenditori fizzeri che avevano avuto la possibilità di installare delle fabbriche tessili erano le migliori fabbriche tessili d'Europa in pochi anni le hanno completamente declassate e le hanno fatto chiudere Arpino non sto parlando della valle dell'Irno in pratica che cosa abbiamo avuto noi dall'unificazione assolutamente niente anzi ci abbiamo richiesto uno non è che vuol dire dividiamoci no cerchiamo di riprenderci la nostra identità per capire anche a tutti gli altri che noi non siamo meno di loro io vivo al nord tantissima gente del sud tantissima gente del sud si sta facendo rispettare al nord proprio mantenendo onestà impegno e voglia di lavorare e questo qua non va cerchiamo di sfruttare al massimo questa cosa ricordiamoci di un'altra cosa la cultura tanta gente dice con la cultura non si fa niente no con la cultura si mangia la cultura ci vende il nostro passato anche con la cultura si mangia con la cultura abitando a verona ho a che fare spesso con romeo e giulietta chi non li conosce no ma è un piacere allora intanto intanto romeo e giulietta è una semplice un'interpretazione di un drammaturgo inglese che conosceva pochi luoghi italiani ma i romeo e giulietta non erano veronesi i romeo e giulietta erano vissuti pure si chiamavano Teresa da Molideo e Davide da Arminio e la storia non finì male come... finì molto meglio tanto è che nel luogo dove ci fu la specificazione delle due famiglie c'è un santuario e dove si trova questo santuario? Montegolfino e Rovella Montegolfino Rovella allora in pratica le due famiglie erano così nemiche una con l'altra che ogni tanto una dell'altra che veniva catturata e alla presenza della famiglia dei catturati e no le successe hanno spesso anche per le sue ragazze per Davide soltanto sono ragazze che ormai ho anche nella testa sul cibo allora che poi entri un monaco che cosa fece? no non fece altro che no disse ragazzi che cosa ti fai? uno di una famiglia e uno di un altro allora i ragazzi sono questi o ammazzate tutte e due o mettete d'accordo eccoci vedete questa 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 improvvisazione perché ti ho fatto ti ho tirato un po' un tutto scherzo l'ho tirato in ballo diciamo però io so che la tua conoscenza questo modo di raccontare le cose è un appassionato volevo infatti una cosa dove sta? a Roma 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 sì da San Luca con un amico e ci hanno raccontato che tutto quello che si dice in serie giornale è falso è falso io ci credo a queste persone in proprio parole questa faida di persone è iniziata perché due famiglie una delle due famiglie ha ucciso un ragazzo della croffateria ed è cominciata una faida di vendetta non di malavita di vendetta tra di loro spacciata per per criminalità organizzata ci sono stati gli ingranghettisti una volta che si sono fatti i soldi se ne sono andati San Luca è un paese io l'ho visto personalmente abbandonato a se stesso gente onesta, codiale accogliente quindi sono a pezzi ovviamente sono sempre quelle mezze verità adoperate infatti chi è che sta fuori che vive a Giorgio, vive all'estero quando sente il telegiornale legge solo le indizie negative altatamente domani Savini è a San Luca da noi esistono un'infinità di bellissime iniziative che non vengono mai pubblicizzate siamo davanti i morti non abbiate caldo ok 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 ma spazio volevo per ultimo ricordare un'altra cosa che oltre ad essere sì divisi nel senso che pari territori però noi siamo anche un gruppo di vari movimenti associazioni che hanno la stessa finalità e infatti fra noi abbiamo Freddi Adam che è Adam buongiorno a tutti vabbè lui su su facebook si firma anche Adam che fa parte del movimento neoporbonico e che vorrei invitare a dare una sua testimonianza allora forse non si vede ma io sono profondamente commosso e non lo so se riuscirò a finire questo intervento perché sono molto emozionato perché quando abbiamo cominciato un lavoro di ricerca sui documenti d'archivio per far scoprire finalmente che cosa è successo dalle nostre parti e che non era una semplice liberazione dell'Italia la proprietà si dava dai fratelli noi italiani il nostro intento era quello di farlo sapere a quanta più gente possibile perché noi dobbiamo riscoprire la nostra storia io ringrazio veramente il comune di Pagneto che ha fatto degli sforzi enormi forse anche contro la popolazione non lo so perché ci sono dei muri enormi nonostante questa cosa qui faccia parte della nostra storia e che ha toccato profondamente qualcuno di noi infatti c'è questo signore che è diretto discendente di uno fucilato di Pagneto io faccio ricerca d'archivio a Livorno faccio parte di un movimento culturale neoborbonico e il nostro intento è quello di scoprire quante più cose perché dobbiamo sbugiare quello che ci hanno scritto nella storia che è falso grazie a tutti scusate allora noi stiamo noi stiamo attendendo il Luciano Rotolo che dovrebbe venire a fare questa famosa benedizione a nome della sua fondazione Francesco II quindi stiamo allungando un po' come dicono i Piemonte proprio nell'attesa che arrivi su questo i preti li tartatare poi danno i piccii che facciamo? aspetta già ci sta con qualcuno che si può mangiare i preti ma quando voglio mangiare il ritacco vedo la macchina non mi mangiare 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 facendo spiegare a Giuseppe Serino che è il referente del volontario del 5 Stelle la motivazione di questa sua corona fatta ai vostri 7 passarielli passarielli sì salve il signor Giuseppe come il Semarro è la legazione di Benevento così è il tuo richiesto è il tuo anche allora questi signori qua ma che è di Benevento questi signori qua dovrebbero fare una cross-section all'Italia perché anche li puro parla con questi inpatano in bocca ma parla non puoi rispondere non puoi rispondere non puoi rispondere ma non puoi rispondere ma non puoi rispondere non puoi rispondere ma non puoi rispondere allora la corona che dovrebbe fare una cosa diciamo caduti l'ho fatta in una maniera che si capisce il è il significato 7 gigli per 7 un giglio per 7 caduti 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 è il contornato di colori della nostra bandiera gialla e rossa e con dei gigli un po' più rossi questo questo è il tuo termine anche se sono morti vivono e noi nei film sono sempre cresciuti un po' più rossi un po' più rossi un po' più rossi un po' più rossi